Dunque, Olanda-Spagna, una finale storica, cari amici di Napolisite e amici di Stelle Mondiali, perché domenica 11 luglio comunque finirà la Coppa del Mondo, andrà per la prima volta in una nazione di grande tradizione calcistica, ma che non era mai riuscita ad arrivare sul tetto del mondo. Diciamo subito che questa finale è comunque meritatissima per entrambe e che anche le stelle, con il mio studio dei Biotrend, l'avevano anticipata. Infatti, prima di avventurarci nell'analisi astrale e nel pronostico per la finalissima di domenica, facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo e risentiamo cosa avevo detto io e previsto giorni fa da questo stesso studio di Napoli City. Tra le panchine è molto più favorito il capricorno dei boschi della Spagna rispetto al suo collega della Germania, l'acquario Low. Questo è già un dato molto importante. Dovendo fare comunque una previsione con risultato netto, sul piano di Biotrend devo dire che la Spagna è più favorita e quindi alla fine, magari anche questa dopo una partita molto tirata, la Spagna dovrebbe arrivare in finale. A livello di Biotrend, a Strali c'è buon equilibrio tra le panchine, tra il pesce Tavares dell'Uruguay e il toro Van Marwijk dell'Olanda, con quest'ultimo però leggermente più protetto. E dico alla fine due con l'Olanda che va in finale. Le mie stelle quindi, in questo caso ancora per una volta, un po' come il polpo in Germania, non sono state solo a guardare e mi stimolano a cercare di fare un pronostico su questa affascinante finalissima dei colori estivi, arancione e rosso, tra Olanda e Spagna. Lo farò come al solito col mio sistema che somma i biorittimi e il Biotrend astrale di ogni singolo atleta e degli allenatori, ma è prima doveroso ricordare che questa mia mini rubrica è offerta da Napoli City e da Biancenir che dall'inizio del Mondiale, con la sua t-shirt dedicata ai mondiali, nelle migliori vetrine della Campania, in cui troverete anche questo splendido pallone di juta fatto a mano dallo stilista ad uno ad uno, la cui vendita va per il 50% in beneficenza all'AMREF. Però comunque se ne volete sapere di più su Biancenir sappiate che è su Facebook, quindi potete chiedere la sua amicizia, oppure potete scrivere a biancenir.com. Ma andiamo nel vivo di questa mia previsione astrale, di questa finalissima di domenica 11 luglio, ore 20 e 30, Johannesburg, tra Olanda e Spagna. Si giocherà sotto il sole e la luna nuova in Cancro, Mercurio in Leone, Venere, Marte e Saturno in Vergine, Giove Urano in Ariete. Questo per dire che a livello del Biotrend astrale è messo niente male il Toro Valmarvic, che è l'allenatore dell'Olanda, mentre il cielo è davvero elettrico con questo sole e questa luna opposta per l'altra panchina, cioè per il Capricorno de Bosque della Spagna, che potrebbe quindi soffrire particolarmente per qualche episodio in campo, magari qualche decisione arbitrale. In riferimento alle squadre invece per l'Olanda, il Biotrend astrale migliore lo hanno il Cancro Cuit, lo Scorpione Eitinga, il Toro Van Bommel, il Vergine Stekelenburg e sempre poi a buon livello la supercoppia Gemelli-Aquario, cioè Snyder e Robben e discreti gli altri, mentre in difesa il punto debole potrebbe essere l'Ariete Matisen. Invece passando nella Spagna gli astri sono complici per il Toro Casillas e Inieste, se giocherà Fabrecas, per i pesci Torres se lo farà giocare e se giocherà Llorente per il Cancro Busquet, discreti il Sagittario Villa e gli acquario Savi, Piquet e Capdevila, mentre il Biotrend è meno favorevole e questo potrebbe essere delicato per la difesa, Pegliariti, Sergio Ramos e Puyol, anche in questo caso quindi una partita di difficilissima previsione come valori tecnici globali, che devo dire, io preferisco la Spagna, la Spagna è una squadra straordinaria, però ecco c'è qualcosa nella difesa come accennavo prima e nel suo allenatore che mi fa pensare che la formazione iberica possa soffrire alcuni episodi della partita, ci potrebbe essere quindi un rigore, un gol annullato, un fuorigioco, un qualcosa che potrebbe, un'espulsione, un qualcosa che potrebbe alterare l'equilibrio della partita a favore di un'Olanda che appare mediamente più protetta da questi episodi ostili, anche se magari il pallino del gioco lo avrà la Spagna e sarei tentato di andare contro i miei coefficienti astrali e dire Spagna che è la vincente la Spagna, anche perché la vedo come squadra più meritevole di questo titolo, però devo rispettare anche i miei studi, i miei coefficienti, quindi probabilmente l'Olanda col genio di Snyder e Robin potrebbe essere la squadra che vince, quindi devo fare l'astrologo del calcio, avete già capito che i miei biotrend dicono che, anche se è una posizione difficilissima da fare, che l'Olanda è la favorita di questa finalissima. Riassumendo quindi per le stelle e per i miei biotrend industriali la squadra che dovrebbe vincere, alzare la Coppa in questo campionato del mondo 2010 è l'Olanda, eccomi sbilancio, è l'Olanda e siamo ai saluti. Ringrazio quindi Napoli City che mi ha dato lo spazio di questa rubrica e Biancenire con la sua linea splendida e t-shirt che dall'estate prossima te lo vedete in tutta Italia e vi saluto, anche se il mio è un arrivederci perché tra poche settimane ci rivedremo sempre in questi studi con la rubrica le stelle del calcio e inizierò a parlare della prima partita dell'Italia di Prandelli, ecco diciamo quindi inizieremo con quello, poi magari proseguiremo dopo col campionato. Ciao a tutti da Riccardo Sorrentino, ciao a tutti da Napoli City e a presto e ricordate che al di là dei miei oroscui e degli oroscui in generale, le stelle siete sempre voi. Ciao a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!